C'è stato un cortocircuito nell'impianto elettrico, un'unità di condizionatore d'aria e quello esternamente sul tetto ha avuto un cortocircuito e ha creato una fiamma, però è stato circoscritto quella zona, sono partiti gli allarmi, c'è stato un intervento immediato dei vigili del fuoco che abbiamo comunque voluto chiamare, il problema si è risolto in pochissimi minuti.